Oggi, 7 febbraio, ricorre la giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo, un fenomeno dal quale le marche non sono immuni. Come rivela un'indagine coordinata dal Ministero dell'Istruzione, nella nostra regione il 27% di un campione studentesco intervistato ha dichiarato di essere stato vittima di episodi di bullismo e il 19% ha dichiarato di aver commesso prepotenze verso altri coitanei. Un fenomeno delicato che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, scuola e forze dell'ordine. Un tema che proprio l'amministrazione regionale ha approfondito oggi all'Istituto Superiore Leopardi di Recanati soffermandosi sulle nuove frontiere del cyberbullismo. Il fenomeno, fortunatamente, se aveva registrato un aumento, vi parlo dei casi trattati dalla Polizia Postale in tutta Italia, si aveva registrato un aumento nel 2021 rispetto al 2020, quindi pensiamo a una influenza della pandemia, delle restrizioni dovute alla pandemia, nei primi nove mesi del 2022 ha registrato una diminuzione di casi. Il consiglio ai ragazzi è di stare molto attenti, qualsiasi cosa viene detta su internet non viene più restituita, non si cancella, quindi sono come parole scritte su un muro, ma io il muro lo posso poi ridipingere, cancellare tutto, quello che io dico su internet non si cancella più. E purtroppo le parole hanno un peso, un peso rilevante. Noi ci concentriamo su tutto quello che avviene online, quindi la presa in giro, la prevaricazione telematica che viene commessa attraverso uno schermo di un computer o uno schermo di uno smartphone, quindi noi ci concentriamo, concentriamo la nostra azione su questo. La Regione ha chiesto alle scuole, ha chiesto alla Polizia di Stato, alle forze di Polizia, all'ordine degli psicologi, come coordinare queste misure, perché appunto quando si parla di sicurezza integrata si parla di tutto ciò che serve per prevenire la commissione reati, perché quando il reato è commesso poi il danno è già stato realizzato. Anticipare invece la soglia di conoscenza, di cultura, di precauzioni necessarie per evitare che questi ragazzi possano cadere per esempio in mano a bandi internazionali che poi possono anche ricattarli per le immagini che hanno diffuso in rete, significa proteggere i nostri ragazzi, le nostre famiglie. Quindi quando si parla di sicurezza integrata, che è una materia specifica che la Costituzione assegna alle Regioni, si tratta di mettere insieme tutti i soggetti che si occupano a vario titolo di questo fenomeno. Io consiglio ai ragazzi che sono vittima di cyberbullismo di parlarne immediatamente con un adulto di riferimento, di parlarne con un docente, col docente referente, con un genitore, di segnalarlo sul commissariato di PS online, di venirlo a dire a noi, nel senso che insieme possiamo anche capire il fenomeno com'è e qual è la strategia migliore per trattarlo. Noi appunto abbiamo questo commissariato di PS.it che consente anche di fare delle segnalazioni, quindi il ragazzo se è intimidito all'idea anche di parlare con qualcuno direttamente può mettere una segnalazione lì che viene smistata al COSCA, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, territorialmente competente. Quindi noi dopo lo prendiamo in carico.